Allora, un sacco di gente ci chiede sempre ma ci date una mano a fare gli acquisti su Bricklink? Va bene. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti qui su Due Pazzi per il Lego un saluto da Jody e Roberto in questo momento non c'è perché lui sta facendo un altro video e io sono qui adesso per farvi vedere una cosa incredibile cioè invece è molto credibile, cioè come si fanno gli acquisti su Bricklink ma prima di iniziare vi ricordo come al solito di iscrivermi io, no voi, vi dovete iscrivervi voi in realtà ai nostri canali perché che cosa succede? Che se vi iscrivete ai nostri canali avete diverse possibilità una per esempio se cliccate subito iscritto qua sotto potete partecipare all'estrazione di Lego perché noi ogni mese regaliamo dei Lego incredibili questa cosa però è così, basta solo essere iscritti, non serve pagare niente, niente, niente l'altra cosa è che potete entrare nel mondo magico bam, di Big Manu che praticamente è un negozio fisico ma soprattutto online di Torino che ci permette di fare degli sconti i sconti sono qui sotto, li vedete quindi comprate da Big Manu che vi straconviene ma iniziamo subito molto spesso la gente mi ha detto ah io non riesco a fare gli acquisti su Bricklink non capisco come si fa, non riesco a orientarmi neanche adesso questo video non ha una pretesa di completezza però è un video in cui diciamo mi ci metto e cerco un attimo di farvi vedere come si fa un acquisto su Bricklink e come faccio? ne faccio uno io mi compro una cosa che voglio da un po' di tempo e la compro in diretta poi questo video va un po' di post editing perché cancellerò gli indirizzi, queste cose un po' private e una cosa molto importante ragazzi siccome io mi sto per comprare una cosa a cui tengo davvero nel senso che non posso fare un acquisto online di una cosa che non mi interessa io non voglio fare pubblicità a dei negozi casualmente chi fra i negozi che vedremo avrà quel determinato pezzo sarà più avvantaggiato e quindi partiamo subito ho deciso di mettere tutto qui dentro ecco qui mi si vede proprio in piccolo piccolo però almeno avete la schermata grande di Bricklink io voglio comprare questo dinosauro esatto a parte questo T-Rex qui mi manca, non ce l'ho fra le varie cose non me ne mancano tantissimi però questo purtroppo mi manca allora io so che questo è T-Rex 05 sono già andato a cercarlo ma se non lo sapessi potrei andare qui e scrivere T-Rex 05 e non fa altro che riportarmi a questa schermata qui o comunque se io non sapessi come si chiama potrei cercare Tirannosaurus qui e lui mi farebbe vedere tutti i tirannosauri i pezzi di tirannosauri e così via io so che però sto cercando T-Rex 05 è bene quando vado qui o qui se scelgo il colore TAN mi fa vedere tutti quelli che lo stanno vendendo ce ne sono in vendita in 23 più 29 52 negozi fra nuovo e usato in questo momento quindi non sono tantissimi è stato venduto un anno media sui 30 euro più o meno negli scorsi mesi io vado a vedere prima le condizioni dell'usato ok? e vado a vedere il primo il meno costoso di tutti questo qui in Germania ci sarà qualche problema perché è molto subpar in realtà no è semplicemente che è in sconto al 30% quindi potrebbe già andarmi bene andiamo a vedere però una cosa molto discriminante cioè andiamo a vedere nella splash page se lui mi dice quanto mi costerà spedire questo oggetto qua non lo dice andiamo su Terms e dice che fino a 300 grammi mi costa 7,90 euro 7,90 euro fino a 300 grammi questo oggetto qui questo dinosauro se voglio tornare indietro e scoprire quanto costa però cioè quanto pesa pesa sicuramente meno di 300 grammi ne pesa 128 quindi sinceramente questo lo sta vendendo in sconto mi conviene quindi addirittura potrebbe essere subito il mio acquisto tra l'altro lui lo rimarca 35 su 30 quindi è veramente in ottime condizioni ok l'ho messo prima di completare l'acquisto però voglio vedere se questa persona su 14.000 lotti quindi un bel po' di roba ha altre cose che mi servono quindi clicco su wanted list e qui ci sono delle mie wanted list deseleziono tutto e vediamo qui per esempio ha 20 lotti di roba che mi serve quindi mi servono 6 di questi tutti e 4 questi uno di questi uno di questi uno di questi quando ho già preso uno lui ha due lotti questa cosa è importantissima state attenti che a volte le persone mettono due lotti diversi quindi uno di questi uno di questi uno di questi uno di questi i prezzi mi sembrano molto in linea quindi prendo tutto poi mi sposto qui pure per finire questo mi manca ancora uno di questi questo ce li ho uno e uno di questi qui mi manca questa testa e questo casco perfetto aggiunto tutto sto semplicemente inserendo e faccio add items to cart e poi dopo lo rivediamo ha pure un dinosauro di quelli che mi servono qua queste ruote che mi servono a me me ne servono 4 ne ha 3 quindi le prendiamo tutte e 3 siamo arrivati a 30 euro precisi ma ha anche un pezzo del caffè corner mi mancano 9 lotti vedete qui c'è un 9 perfino il caffè corner e ha questo slope che è l'ultimo che mi manca 1 euro e 24 lo prendo ok sono 31 euro e 24 a questo punto che cosa devo fare devo andare qui lui mi dice che però avverrà 9 e 20 invece dei 7 e 50 che avevamo previsto però siccome questo dinosauro più tutti questi pezzi sinceramente mi sembra un buon affare io vado proceed to check out a questo punto lui mi dirà che sono 31 euro e 24 più 9 e 20 di spedizione mi dice alcune cose scritte in tedesco fra le varie cose quindi non posso sapere quello che mi sta dicendo questi sono tutti i termini probabilmente ci saranno anche in inglese vero? no quindi ci sono tutti i termini in tedesco non fa niente li accetto qui c'è il mio indirizzo di spedizione che sarà blurrato nel post produzione mi chiede come voglio pagare people on site euro benissimo mi sta benissimo select and continue e mi chiede quale spedizione voglio questa qui questa qui che è 14,99 ma arriva in da 7 a 15 giorni questa qui però non è non mi interessa quindi questa qui a 9 euro e 20 ci posso stare insomma check out with paypal cosa succede adesso? adesso mi porta sul mio account di paypal vedete direttamente paga con paypal e mi porta a dire semplicemente mi sta prendo qui di nuovo dovrò fare questo blur e mi dice paga con saldo paypal 40 e 44 continuo a rivedere l'ordine a me mi sta bene continuo a rivedere il passaggio sul sito di questo tizio attenzione perché in questo momento se io clicco qui qui ancora devo berrare perché c'è il mio indirizzo se io clicco qui attenzione l'ordine è stato fatto cioè adesso sta caricando la pagina e bam ordine fatto posso rivedere il mio ordine view order details e eccolo qui questi sono tutti i pezzi che ho ordinato compreso il mio dinosauro che volevo ho speso circa 40 euro per un dinosauro che ne valeva 30 ok quindi praticamente in realtà questi altri 10 euro di pezzi che mi servivano per completare dei set che sto finendo che mi piace a me finire i vecchi set ecco tutti questi pezzi qui per me è come se fossero quasi gratis comunque ho pagato un pochino di spedizione attenzione non è stato molto molto comodo però insomma questo è il mio ordine numero 2128006 e questo ordine qui è effettivamente un ordine di bricklink attenzione questo orario che vedete qui è 6 ore indietro perché viene utilizzato un orario degli Stati Uniti vedete che sono 29 pezzi in tonale e 19 questo è tutto quello che ho speso da questo momento in poi ho pagato con Paypal pertanto anche se l'ordine non mi arrivasse io sono protetto da Paypal e quindi lo posso fare tranquillamente questo è come si fa un ordine bricklink cioè non ci vuole particolarmente niente ovviamente se voi avete delle domande su come farlo potete chiamarmi potete scriverlo nei messaggi insomma potete contattarmi qui vi faccio vedere che comunque all'interno delle mie wanted list ho tutto questo materiale che adesso manualmente finirò questo video mi metterò a segnare per esempio questa è la lista dei dinosauri che mi mancano sono 18 in realtà sono 17 perché di questo dinosauro mi manca solo la mandibola e questo e questo in realtà li ho comprati da un caro amico e mi arriveranno a breve quindi mi mancavano 16 dinosauri adesso dopo aver comprato questo me ne mancano solo 15 quindi sono contentissimo perché fra 15 dinosauri io avrò tutti i dinosauri che esistono e sono felicissimo vado qui questo want metto have one e faccio save changes adesso questo qui c'è scritto che ce l'ho molto probabilmente dovrò andare sui miei ordini qui ci sono tutti i miei ordini non ve li faccio vedere perché se no si vedono tutti gli ordini che ho fatto e non mi va e all'interno dei quali si vedrà il fatto che c'è quest'ordine blurrerò probabilmente qualcosa qui qua si vede che c'è quest'ultimo ordine che ho fatto perfetto eccolo qui e adesso andrò a selezionare tutti questi pezzi per esempio mi metto qui vado qui faccio wanted list faccio search prendo i 3062b che sono il background uno per uno eccoli qui e io avevo tre marroni e ne ho due quindi me ne mancano otto me ne mancano sei neri infatti sono sei neri e tre marroni ce li ho tutti quindi qua metto tre qua metto otto ce li ho tutti quindi quando tante volte andrò in altri negozi per fare altri acquisti questi mi risulteranno questa wanted list si chiama 3739 perché mi serve per completare il set 3739 e adesso manualmente mi metterò ad aggiungere tutti questi pezzi non sono tantissimi così almeno le mie wanted list saprò che questi pezzi in realtà ce li ho e non li devo comprare più beh mi sembra che sia veramente tutto un video abbastanza breve ritorniamo un attimo così ecco video abbastanza breve ragazzi dieci minuti ma che ci vuole a fare un acquisto di bricklink se avete diciamo curiosità per sapere come si fanno altre cose per esempio come si crea una wanted list eccetera scrivetelo nei commenti che questo potrebbe essere uno dei prossimi video però comunque fare un acquisto su bricklink come avete visto non ci vuole proprio niente è proprio una stupidata è una cosa che può fare chiunque senza bisogno di particolari capacità ok io sono riuscito a comprare un dinosauro a cui tenevo tantissimo in dieci minuti mi arriverà questo dinosauro c'è scritto fra i 7 e i 40 giorni verosimilmente ragazzi in un paio di settimane e ce l'avrò quando ce l'avrò magari ve lo mostrerò in un video ragazzi con questo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao